Udienza preliminare rinviata oggi per un difetto di notifica. Parliamo dell'udienza relativa alla morte del piccolo Tommaso D'Agostino, investito da un auto mentre giocava nel piccolo cortile dell'asilo primo maggio a Pile. Se ne riparlerà il 5 febbraio e in quell'occasione l'avvocato Colella, che rappresenta i genitori del piccolo, chiederà l'autorizzazione o la citazione del responsabile civile, ovvero dell'assicurazione. La parte offesa infatti può scegliere se entrare nel penale o se chiedere il civile. Se si entra nel penale serve l'assicurazione che diventa responsabile civile e che siede quindi accanto all'imputato per garantirne il pagamento danno e spese processuali. Alcune parti offese si costituiranno parte civile, compresi i genitori di Tommaso. L'udienza a porte chiuse dunque al tribunale dell'Aquila non è neanche iniziata. La certezza è che la donna proprietaria della vettura, rappresentata dall'avvocato Valentini, vettura che si è sfrenata andando a investire il piccolo, ferendo altri compagni uccidendo lui, chiederà il rito abbreviato. Davanti al giudice Guendalina Buccella dovranno comparire la preside della scuola Monialai, i tecnici comunali Bruno Martini e Antonello Giampaolini. A maggio il PM Stefano Gallo, che ha coordinato le indagini della mobile, aveva depositato la richiesta di rinviaggiudizio per gli imputati. È passato più di un anno da quella tragedia. Era il 18 maggio, tutto si consumò nel giro di qualche secondo davanti agli occhi increduli dei bambini e delle maestre. Per Tommaso non ci fu nulla da fare, 14 sono in totale le parti offese. I quattro imputati sono accusati di omicidio nei confronti di Tommaso e lesioni stradali nei confronti dei compagni. La conducente è imputata perché parcheggiando su una strada con molta pendenza ometteva di azionare il freno a mano, oltre ad aver lasciato l'altro figlio in auto di 11 anni, che in modo inconsapevole toccava il cambio portando il veicolo a muoversi. Per l'accusa la preside è imputata perché avrebbe dovuto rilevare l'inidonetà del documento ridatto dal tecnico Martini, consapevole che la raggiocca era protetta da una cancellata che delimitava ma non proteggeva, ma per lei c'è anche l'accusa di non aver impedito il parcheggio all'interno del cortile. Il tecnico Giampaolini è invece accusato di aver permesso la posa di quella recensione inadeguata, che non eliminava i rischi di investimento.